La protezione delle sponde del fiume Pescara è alla base del progetto presentato questa mattina in provincia di Pescara dal presidente della provincia Antonio Zaffiri, unitamente ai sindaci di Pescara, Cepagatti e San Giovanni Tiatino per quanto riguarda la provincia di Chieti. I lavori già consegnati lo scorso 30 settembre sono appaltati per un importo di un milione e mezzo di euro finanziati interamente da Regione Abruzzo all'interno del secondo programma per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico e serviranno in primis a tutelare il patrimonio e l'incolumità pubblica e privata. Gli interventi in sostanza consistono nella sistemazione idraulica e forestale degli ambiti interessati riassondi tramite tre tipologie di lavoro. Pose di scogliere con massi vincolanti, gabbioni verdi, opera di inverdimento delle sponde. La riconsegna dei lavori è fissata in 186 giorni. Si mette in sicurezza le sponde del fiume Pescara, si fanno degli interventi spondali, così chiamati, con delle rocce a protezione dove è soggetta a erosione, poi delle gabbionate verdi per l'impatto ambientale e la risagomatura e riprofilatura di alcuni argini. Qui sono stati già consegnati i lavori, ieri mattina è stata fatta la consegna dei lavori, quindi il tempo tecnico per intervenire. Ovviamente tempo permettendo perché andiamo verso l'inverno, quindi faremo subito quegli interventi possibili a protezione delle sponde, come ho detto prima, e poi a seguire un milione e mezzo di opere, di lavori, quindi necessita il tempo che ritiene. E' giusto.